Questa sì che è la produzione vera, sana, fresca Buon boccettino di vino, già a posto, già pronta La prova assaggio, assaggiamo i piselli Mi sa che è il secondo oggi No dai Seguiva le ricette della nonna Esatto, ora speriamo di essere diventato più bravo della nonna Stasera appunto abbiamo fatto una buona cucina e una buona risata Ne vedremo, ne sentiremo ma soprattutto ne mangeremo delle belle Eh ragazzi